Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia, oggi show numero 205. Non c'è tanta voglia di ridere e scherzare, sapete benissimo perché e sapete di cosa andremo a parlare. No, è uno degli show che non avrei voluto registrare. Iniziamo la puntata. Lead Story. Come ben sapete, mercoledì scorso ci ha lasciato Davide Rebellin, uno dei ciclisti, professionisti italiani più longevi nella storia del ciclismo. Pensate, aveva annunciato il suo addio alle corse a metà ottobre dopo il Giro del Veneto, dopo ben 30 stagioni tra i professionisti, 62 vittorie in carriera. E dopo un mese, un mese e mezzo, questo annuncio, è successa questa tragedia. Tragedia, per chi non lo sapesse, Rebellin è stato investito da un camion, da quello che sta emergendo in questi giorni. Il camionista è sceso dal veicolo, ha constatato cosa ha causato, è risalito sul suo camion e è andato via senza chiamare i soccorsi. È stato fotografato da persone presenti. Ci sono le prove, un camionista tedesco, tra l'altro recidivo, perché nel 2001, tale Ricke, venne condato al tribunale di Foggia per un episodio simile. Quando ha seguito di un incidente, scappò, poi non ci fu, in quel caso non ci scappò il morto, però aveva fatto un danno, si era scappato. Per il governo tedesco, questo personaggio può ancora guidare un camion e ovviamente fare danni. È doppiamente recidivo, perché nel 2014, sempre in Italia, è stata ritirata la patente per guida di stato di ebrezza. Questo è quello che sappiamo in Italia. Un camionista che lavora a livello internazionale magari ha fatto danni simili in altri posti in Europa e quindi ovviamente la domanda che ci poniamo tutti è come mai una persona che guida per lavoro può continuare a fare questo con i danni che ha causato. Spero che questa sia l'ultima volta che abbia guidato un camion. L'Italia, la procura italiana di Vicenza, mi sembra, si è attrezzata chiedendo il modulo di stradizione per poter... il mandato di arresto europeo per poter far venire in Italia questa persona e processarla. Chiedigli cosa è successo e poi processarla. No, perché già è comunque difficile poter gestire questa situazione ormai fuori controllo di continui casi, continui morti sulla strada. A volte, molto spesso sono anche delle fatalità, può essere anche l'orrore del ciclista, però se passiamo sopra a questi casi dove c'è una persona a cui avevano ritirato la patente per venire in stato di brezza, aveva già fatto una missione di soccorso e gli hai la possibilità di girare ancora per la strada, allora vuol dire che sei complice di un amicidio. Tu, governo del tedesco, in Italia meno su questa cosa fanno un pochino più sul serio. Se fosse stato italiano non penso che avrebbe potuto ancora guidare mezzi pesanti, soprattutto con due precedenti di questo tipo, secondo me l'avrebbero revocata la patente. Poi non lo so, bisogna vedere poi cosa dice la legge. Sono andato un po' a informarmi, ho visto che la patente si può revocare in alcuni casi, come ad esempio guidare con una patente ritirata o essere presa due volte con l'alcol test in un giro di due anni, quindi magari avrebbe fatto anche in Italia, non lo so, non ho le competenze per dirlo, però bisogna stringere un pochino su queste cose, soprattutto su persone recidive. Non ce l'abbiamo qui con i camionisti in assoluto, questa persona non rappresenta il camionista medio, anzi, nella mia esperienza su strada, le persone più attente nel superarmi, quindi di solito sono proprio i camionisti e sono le persone tra l'altro più brave a guidare perché sono sempre in giro per lavoro, quindi non è l'attacco verso i camionisti, è l'attacco verso questa persona e che è permesso a questa persona di continuare a guidare. Io attacco piuttosto le persone che a volte vedi, io purtroppo ho questa malattia di leggere in tanti commenti, vedo che alcuni quando leggono di una tragedia di questo genere dicono eh però anche i ciclisti sono in mezzo, ma ragazzi mettetevelo in testa, soprattutto noi ci guardano sui ciclisti, quindi magari non vedranno quello che dico, ma chi muore sulla strada, il 99% di queste persone che ci lasciano le penne, stavano pedalando da soli, da soli, non sono in mezzo alla strada, non sono in gruppi enormi che intralciano il traffico, sono da soli e non vengono visti, vengono schiacciati, cioè mettetevelo in testa, poi sicuramente ci sono dei ciclisti che sono indisciplinati, vanno sanzionati anche loro perché comunque la strada non è neanche solo dei ciclisti, per carità, però cerchiamo di metterci in testa questa cosa, per favore, almeno questo. Sì, il punto è che quando succede a una persona che è appena iniziata ad andare in bicicletta è inesperta e secondo me la maggior parte dei oltre 200 morti in bici all'anno che vengono investiti, la maggior parte di queste persone fanno parte di questa categoria, non ho una statistica per dirlo, però penso che succeda tante volte anche perché c'è proprio una non capacità del ciclista di, ad esempio, gli viene fatto un filo da un mezzo pesante con un grosso spostamento d'aria, una persona che sa andare in bici rimane ferma, una persona che appena inizia ad andare in bici si spaventa. Il camion deve comunque sempre passare alla debita distanza. Ovviamente, certo, non vuol dire che non c'è colpa di chi guida, sto dicendo che però chi ci lascia le penne più delle volte è in persona. Quando però succede, probabilmente il ciclista più esperto al mondo, perché Rebellin pensa che abbia fatto più di un milione di chilometri in bicicletta e succede a lui, allora tutto questo cade e vuol dire che anche le persone più brave in bicicletta che ci possono essere, possono lasciarci le penne e questa è una cosa che mi butta ancora più giù di morale, perché se da un lato ti senti e dici, vabbè, ma a me non capiterà mai, quando vedi che capita uno come Rebellin, che è una vita che va in bici, diciamo, allora è veramente brutta la cosa. A questo proposito, volevo leggere un commento che ho trovato sotto un video di, è il video che è uscito domenica, sulla sfida di 200.000 iscritti, di Mario Russo, che dice, non ho ancora visto un'iniziativa per la morte di Davide Rebellin, in questa tragedia ha sconvolto moltissimi ciclisti e impone di alzare la testa nei confronti del governo affinché si prendano delle iniziative serie in tal senso, sta diventando una strage, cosa state aspettando da organizzare una manifestazione per sensibilizzare le autorità, avete 200.000 iscritti, questa è anche una responsabilità sociale. Prima di tutto noi abbiamo in programma, stiamo lavorando per fare una serie di contenuti che vadano a sensibilizzare le persone su questo tema, cose più approfondite, cose che non sono mai state fatte fino ad oggi, in questi quattro anni. No, ci stiamo interrogando anche noi, non pensate che siamo qui così. A fregarcene. Siamo molto scossi da questa cosa, Alan ha visto Davide qualche giorno prima che venisse investito. Tre giorni prima, l'ha intervistato e ci ha parlato. Quindi non stiamo con le mani in mano, il punto è sempre il solito, cioè noi siamo un canale che parla a ciclisti, quindi quello che possiamo fare noi è più legato a distruire i ciclisti, a sentirsi più sicuri in bicicletta, più che comunicare con gli automobilisti, i camionisti e chi poi crea veramente i danni. Ci stiamo attrezzando proprio per fare questa seconda cosa, che non l'abbiamo mai fatto, cercando di coinvolgere canali che parlano direttamente ad automobilisti e camionisti per provare a farci sentire anche lì. Lo stiamo facendo. Un'altra cosa che vorremmo fare è vedere sulla nostra pelle cosa vuol dire, ad esempio, pedalare in una città, pedalare per un'ora, più ore in una città filmandoci, raccogliere, raccogliere, cioè documentando tutto quello che ci succede facendo questa cosa. Se noi lavoriamo nella comunicazione, dobbiamo cercare di comunicare il più possibile al fine poi di sensibilizzare anche chi sta al governo, chi fa le leggi. Adesso l'ACPI, l'associazione dei ciclisti professionisti, si è già mossa in tal senso, ha già fatto una proposta anche a Salvini, mi sembra che è il ministro delle infrastrutture. Comunque qualcosa si è mosso. Sì, diciamo che a livello normativo, secondo me l'Italia non è neanche messa così male nella prevenzione e nella pena che viene data, perché c'è il reato di omicidio stradale che ad esempio in Germania in questo caso non c'è, si è severi con il tasso alcolemico. Il punto per me è proprio sociale, cioè per quello che vorremmo provare a fare qualcosa che coinvolga le persone comuni e non soltanto i legislatori per cercare di dare un pochino più di educazione su questa cosa, quindi raccogliere una serie di eventi che potranno succederci con questo giro che faremo in città e far vedere effettivamente quanto può essere pericoloso, chiedere anche alle persone che magari dicono ma siete sempre in mezzo alla strada, fagli capire che la maggior parte delle persone che vengono uccise sono da sole e stanno sulla destra. Anche perché parlo a Mario che ha scritto questo messaggio abbastanza forte, noi in primis sentiamo questa responsabilità perché ogni giorno ci scrivono ragazzi, persone dicendoci che hanno iniziato a pedalare su strada grazie a noi perché gli abbiamo trasversso questa grande passione e quindi questa gente pedala. Quindi secondo te non abbiamo a cuore questa cosa? Non sentiamo un senso di responsabilità a mettere su strada persone che poi un giorno potrebbero, cioè non so, non vi va neanche di pensarci troppo, però fidati che questa cosa c'è molto a cuore e noi non è che ce ne freghiamo perché magari parliamo di altro, il nostro lavoro è quello di parlare di ciclismo, parlare, trasmettere la nostra passione, ma questa cosa c'è, ce l'abbiamo in testa. Sentiamo l'ultima intervista di Davide. Sì, domenica scorsa, due giorni e mezzo prima di questa tragedia, ero a Monaco per l'avvento di beneficenza B-King e come sempre facciamo i nostri, chiediamo i pro, quindi facciamo quelle domande botta e risposta e ho fatto un paio di domande anche a Davide e subito dopo gli ho chiesto ora cosa farai adesso che è smesso dopo 30 anni e mi sto dedicando al gravel, ho anche qualche progetto e in fatalità si parlava del fatto che la gravel comunque ti tiene lontano dal traffico quindi è tra virgolette infatti è la bici è la bici che stavo utilizzando. E lui era in giro con la bici gravel mercoledì e niente, giusto per chiudere la listori mandiamo questa ultima nostra breve intervista a Davide. Qual è il cibo spazzatura preferito? Il tuo cibo spazzatura preferito? Ma da italiano direi la pizza, anche se non è proprio una spazzatura ma per me è una spazzatura. Perché ti ingolfa? Sì, perché ho eliminato anche il glutine da qualche anno, i formaggi, quindi lì c'è tutto. Però è buona la pizza della pizza. Poi chi sarà il corridore rivelazione del 2023? Ma io credo il nostro campione italiano perché comunque ha dimostrato già di vincere l'impegno italiano e magari il prossimo anno in una squadra di spessore avrà modo di esplodere, di far valere le sue qualità che penso abbia una qualità del corridore completo. Filippo Zano. Filippo Zano. E quanto sei scaramantico? Per niente. No, proprio non sono per niente scaramantico. Hai mai comprato una bici da corsa per te? No, mai comprata. In 51 anni? Non ho mai comprato una bici. Per fortuna, sono fortunato anche per questo. L'ha comprata mio papà ancora all'inizio della mia carriera, però poi io non l'ho mai comprato. No, noi siamo stati molto combattuti su cosa fare dopo questa lead story. Nel senso, non ho nessunissima voglia di andare avanti con l'atteggiamento scherzoso, ironico che abbiamo di solito. però alla fine il nostro lavoro è questo. Anche se non abbiamo voglia di ridere in questo momento, è un canale che deve comunque portare giochi, serenità, chi pedala. Ricordandoci che comunque se il ciclismo può essere mortale, può anche in realtà fare bene e far guarire tante persone che soffrono di diversi mali dall'obesità, dalla depressione. Quindi è qualcosa che comunque ha un risvolto positivo e ci teniamo a andare avanti. Come ho scritto su un post Instagram domenica, dove parlo anche del video di 200.000 iscritti di Rishow, il nostro compito è quello di andare avanti perché chiudere, fare e dire basta, non vi puoi sapere quello che riguarda la bici perché è diventato una tragedia dietro l'altra, è sbagliato perché la sede avrebbe vinta a chi vuole far finta di niente, a chi odia i ciclisti, a chi a oggi non ha pensato di cambiare mai le cose. Quindi noi dobbiamo continuare a lottare e sarà il nostro compito fare dei contenuti come già detto su questo tema. Ciao, fermiamoci un attimo, boviamo un caffettino e poi partiamo con la serie Inspiration. Cycling Inspiration Terzo posto Alessio Carvelli Il mio Zwift è differente mentre gli altri sono al coperto su Atopia nonostante la pioggia pedali per due ore divertendoti come un bimbo nel bosco. Sono tanti che non rinunciano a uscire anche con brutto tempo. Molto meglio a volte. Secondo posto Allora Ivo Maffi La 111 è una ciclopedalata che si svolge tra le province di Bergamo, Brescia e Cremona. È un giro con tante varianti e tanti piccoli e grandi castelli da poter visitare. Oggi ho fatto questo giro per festeggiare il primo giorno d'inverno anche se il periodo migliore per fare questo giro sono la primavera d'autunno. Atrivumafi carica tantissime foto legate a ciclabili sull'app di GCN ci fa scoprire anche posti interessanti. quasi tutti questi percorsi sono quasi tutti interamente senza traffico aperto alle auto. Non è anche in tema interessante. Mi piacevole provare. Zelollo 1985 la foto è questa qui con la Big Bench qui siamo in Piemonte sicuro. Quando dopo una sedita dura cerchi una panchina per riposare e dammiare il meraviglioso paesaggio autunale per una grande fatica serve una grande panchina. E bravo Zelollo primo posto per lui. parco bici ora abbiamo una bianchi gravel bianchi impulso del 2022 caricata molto pulita molto bene tutto perfetto perfetto continuate continuate a caricare l'ho fatto sull'app di GCN due informazioni per quanto riguarda Second Inspiration i premi in questo periodo di natalizio sono un po' incasinati a BAF dove li spediscono quindi avete un po' di pazienza arriveranno tra fine gennaio e nezzo febbraio da qui ai prossimi show quindi sarà un'interruzione natalizia ma arriveranno ricordatevi sempre se avete vinto di scrivere in direct su GCN Italia su Instagram o all'email che trovate sotto in descrizione dando il vostro indirizzo e anche la taglia di eventuali maio felpe che avete vinto gente gente fa cose imprese della settimana e non io partirei con Amar di Felice che era partito per fare raggiungere il polo sud in bicicletta esatto un'impresa incredibile perché pensate che ha a che fare con chilometri 1200 chilometri doveva percorrere sul ghiaccio da solo con una tendina una roba pazzesca fatbike pazzesca si è ritirato per problemi diciamo che si ho letto il suo post su Instagram vi dice che mi consiglio di dare un'occhiata anche lui è un essere umano nonostante sia un uomo di ferro perché per fare quello che fa devi essere no non è proprio perché non è di ferro è umano no fisicamente ha fatto delle imprese incredibili però anche lui è umano puoi avere delle crisi avere momenti soprattutto in un ambiente leggero in cui sei solo devi essere forte il triplo perché se hai un momento di debolezza così come ha avuto lui è meglio mollare poi tra questa rubrica ci hanno segnalato Roberto che è partito dall'Italia con la sua bicicletta bella piena di valigie e attualmente è in Senegal sta facendo un bel girettino con le sue sacche le sue borse però visto questo ce l'ha segnalato un nostro un nostro amico ma non abbiamo dei dettagli di questo Roberto se si volesse palesare nei commenti sotto questo video magari leggeremo il suo commento se c'è campo in Senegal si scrive se riesci a vedere questo show comunque ho tanta roba bravo Roberto su GCN Plus questa settimana potete vedere l'exat Cilocross adesso nel 10 dicembre ci sono un altro paio di corse visibili su GCN Plus sempre di Cilocross non in Italia quindi se siete all'estero o se avete una VPN potete vederle in ogni caso ci sono tanto è legale non è niente di strano no c'è anche la North Coast 500 visibile a tutti che rappresenta una corsa di ultra cycling di 830 km che si svolge in Scozia e Mark Beamont ha vinto questa corsa nel 2015 facendo il miglior tempo questo record ha resistito per parecchi anni poi è stato portato via da Robbie Mitchell e quindi ci riproverà Beamont che chi segue GCN Plus i documentari lo conosce bene uno che veramente piace fare le roba endurance proverà a battere di nuovo questo record infine ricordiamo che è aperta la Swift Academy da 6 al 13 dicembre quindi date un occhio anche se avete Swift ricordiamo anche l'immagine di Gandolfo Gandolfo ha fatto la sua vignetta ha trovato lo spirito nonostante anche lui avesse la morte nel cuore per quello che era successo e l'ha fatto sulla l'impresa sulla nostra avventura in riscio sul monte dinese il consiglio di vedere il video se non l'avete ancora visto molto carino siamo arrivati in cima grazie all'aiuto della community diciamo così però solo ci aspettavano la neuro ci aspettavano il servizio salute mentale ormai la gente sta adobitando veramente della nostra salute mentale quindi ci sta questa vignetta passiamo ai commenti i tuoi commenti andiamo a leggere alcuni di vostri commenti insomma non pensi pochi ma buoni 0 3 2 3 C 3 2 3 permetto che ora sono 19 anni ho fatto i uniti sono arrivato al punto di dire cambio scuola ritento correre agonisticamente con la mia scuola non sarei mai riuscito a seguire gli allenamenti dagli evo e poi da junior la mia scuola oggettivamente mi ha aperto molte porte per un futuro quasi sicuro quindi ho preferito continuare con la mia scuola e tenermi in civismo come hobby e passione sono contento di aver fatto questa scelta poiché nessuno mi avrebbe assicurato il professionismo e se fosse andata male sarei stato uno dei tanti a uscire da una scuola che non mi avrebbe appagato o comunque con un diploma che prendono tutti inoltre gli anni nell'adolescenza gli hai solo una volta e le cose che fai in questa età non le rifarai mai più detto questo ho solamente espresso il mio percorso e quello che penso non me ne voglia nessuno comunque adesso volevo dire a questo ragazzo che ha fatto la scelta a mio avviso giustissima più razionale poi secondo me l'ha detto con anche una certa delicatezza non sono di quelli che dice ah avevi potuto essere un campione però ha fatto un'analisi oggettiva di quello che è stato il suo percorso non so come si sono cambiate le cose ma penso di sì da quando eravamo noi alla sua età quindi quasi 20 anni fa siamo vecchietti in cui siamo riusciti comunque a studiare a me ho fatto un liceo scientifico ho fatto anche l'università mentre correvo forse c'era meno stress soprattutto da allievo perché da allievo non ho mai avuto una necessità veramente di ritagliarmi il tempo per andare a studiare da junior magari un pochino di più però si riusciva a farlo stesso però io ci sia già questa necessità da lì si sta anticipando parecchio io rispetto e condivido appieno chi ha magari anche una passione per lo studio e un talento nel senso in qualche ambito e decide di abbandonare il ciclismo agonistico perché il ciclismo agonistico purtroppo davvero ti dà poche sicuretze e anche chi riesce poi a diventare professionista rischia di fare a volte 7-8 anni nei pro anche 10 o anche 2 o anche 2 o anche non lo sai è tutto molto così fumoso e puoi restare con un pugno di moschi in mano non è veramente niente la scelta più razionale sicuramente Daniele Simonetti ciao Elena Di Giorgio una domanda forse sciocca ma che valore hanno i chilometri percorsi sui rulli hanno una qualche aderenza alla realtà io negli ultimi tre mesi ho percorso circa mille chilometri ma circa 400 da percorsi sui rulli ha senso conteggiare sul totale oppure no? grazie allora ha senso soltanto se utilizzi un misuratore di potenza che ti permette di far sapere al programma che usi per le nardi che sia Swift o altre piattaforme quanto stai spingendo lui poi il programma lo combina con i tuoi valori corporei che inserirai quindi essenzialmente la tua altezza e il tuo peso stima la tua resistenza aerodinamica e la tua resistenza alla gravità che avrai quindi stima con una buona approssimazione i chilometri quindi in quel caso sono reali se non hai il misuratore di potenza invece direi di no non sono reali sono qualcosa di molto approssimativo Franco Cadona da che età si può iniziare a fare palestra dall'allievo di me o no dopo inoltre come vanno gestiti i carichi di pesi di macchinari in età giovanile che esercizi consigliate per un adolescente grazie siete fantastici beh già dagli allievi si inizia a fare io direi giovanissimi ti direi subito tu giovanissimi prima della fase puberale con dei percorsi ostacoli dei giochi in palestra no aspetta palestra è orientato sulla pesistica però è proprio idiotica nel senso imparare un gesto prima dell'adolescenza in cui si è più aperti a recepire nuovi schemi motori nuove capacità coordinative ci aiuta poi a fare meglio i movimenti dall'adolescenza in avanti quindi quello che potrei consigliare già ad esempio lo squat che è l'esercizio base per fare tantissime altre cose si può imparare con un manico di una scopa prima della pubertà per poi cominciare a caricare pesi in modo progressivo consapevole e mirato man mano che si va avanti con l'età però si può iniziare veramente prestissimo chi non inizia almeno da allievo adesso a fare palestra inteso come sala pesi è già un grosso handicap rispetto a chi la fa e questo non pregiudica lo sviluppo ci sono tantissimi studi che mostrano una cosa ovviamente l'ho fatto in modo progressivo e mirato per la facilità non bisogna andare a scaricare le quintalate ai ragazzini senza senso infatti penso a 20-25 anni fa quando poi no 20 anni fa ero allievo e si andava in palestra c'avevamo un preparatore però comunque la ricerca non era a livello che è adesso adesso ci sono preparatori magari come anche tu dicevi prima che ti possono fare dei piani dettagliati su quello che è giusto fare e soprattutto appetibili per l'età perché non è detto che un ragazzino abbia piacere a stare a tirare su pesi in palestra va creato un modo per fare forza indoor ecco quindi senza la bici in modo che sia piacevole anche per un ragazzino farsi male in palestra caricare così senza un senso perché devono fare forza magari anche l'esecuzione non era perfetta tendiniti problemi è una cosa tipica a chi inizia tardi a fare queste cose a chi si accorge che finché sei unione si dicono che sei giovane come di 20 anni e il giorno dopo sei vecchio cerchi di recuperare facendo cose che non hai imparato a fare prima Aldo Vanini nel comune in cui sono amministratore quarto Sant'Elena stiamo facendo i corsi per insegnare l'educazione stradale sia all'aperto che con i rulli bravi interessante tra l'altro prima che succedesse la taggione avevamo parlato anche nello show sì è pazzesco vabbè Antonello Borchedo Pica in questo momento in cui siamo ancora scioccati dall'omicidio di Davide perché questo si tratta ci date veramente forza e coraggio con la vostra simpatia amicizia forza ragazzi avanti così che siete una bandiera è l'unico vero riferimento per chi ama il ciclismo come modello di vita prossima sfida all'attraversamento del lago di Garda in Pedalò per il lungo però questo era un commento sotto al video dei 200.000 iscritti guarda che ragione parliamo il problema sarà come filmarlo sta cosa no non è proprio come filmarlo non ci mettiamo a fare il lago di Garda per il lungo poi per il lungo ci vorranno un paio di giorni per il lungo viene molto lungo per il lungo viene molto lungo i commenti sono finiti non abbiamo letto sui pedalo i commenti sono finiti ne abbiamo letti pochi anche perché devo uscire ho già uscito il video di cui rispondiamo è uscito ieri scusate quindi siamo un po' già ieri abbiamo risposto a una decina di commenti buoni abbiamo anche approfondito alcuni temi quel video è stato registrato prima prima della morte di Daryl quando ci vedete molto sorridenti è perché così erano inconsapevoli andiamo avanti caption challenge allora la foto della settimana scorsa era quella degli asinelli Ramos Audetour a vincere Poffa Marius ci sono due asinelli ed un Filippo Ganna due piccoli sloveni un Aquila Van Aert un Mas un Saga un Vanderpool non manca più nessuno solo non si vedono i due unicorni che poi non c'è la rima Nibali e Valverde sono i due unicorni vabbè dai vittoria meritata per Poffa Marius ha chiesto delle belle assonanze con i corridori correttamente bravo Poffa Marius andiamo a vedere la foto di questa settimana allora c'è un'espressione un po' strana di Van Der Poel sembra fatto di plastica quasi Van Aert è proprio nero un po' ingolfato è anche un po' ingolfato un po' un po' pesantito un po' un po' non è Venturenout oddio ho fatto una gaffa magari l'ho fatta io no no hai ragione hai ragione è Venturenout 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 quindi vedete voi cosa dire cosa commentare oggi non ho molti consigli da darvi Diego siamo arrivati alla conclusione di questo 205esimo Gizia in Italia show un show molto triste sinceramente però noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro e non ci si ferma non ci si ferma cercheremo di essere creativi nonostante tutto inventarci cose essere creativi lavorare su quei contenuti di cui abbiamo parlato prima quello sicuramente per il 2023 ve lo promettiamo quello sarà forse la cosa più facile su cui lavorare siamo meglio motivati e decisi a farlo se il video vi è piaciuto cliccate di mettere like commentare non ci resta che dirvi e alla prossima puntata ciao